Io penso che dopo questo discorso il Presidente Conte e dopo le prospettive che ha dato a questo governo con un richiamo agli europeisti e a coloro che credono nella possibilità di costruire davvero un paese nuovo, moderno e rinnovato anche con tutte le risorse che grazie all'Europa avremo a disposizione, si tratta di consolidare la forza di questa maggioranza perché non abbiamo bisogno di un governo traballante o di un governo incerto o di numeri in commissione che possono essere difficoltosi, abbiamo bisogno di avere certezze ma io credo che dopo questo voto anche noi avremo intanto immagino due voti positivi, molto positivi in Parlamento sul discostamento di bilancio e sul recovery, cioè su quei soldi che devono andare alle imprese, alle famiglie che stanno vivendo tutte le difficoltà che conosciamo, poi io mi auguro che lavorando si possa consolidare il perimetro di una maggioranza coesa che sui valori che sono stati detti oggi in aula ci si possano rispecchiare forze politiche con queste intenzioni e con questi obiettivi.